Ehi cani domestici, sapete che il cane Carlino sta per paturire? Certamente, ho visto che la sua pancia è grande. D'accordo, chissà quanti cuccioli sono dentro lì. Mmm, sì, andiamo. Buongiorno cani domestici, il vostro cane Carlino sta paturendo in ospedale San Paolo. Certo, andiamo a cercare ospedale San Paolo? Sì, grandiosi, andiamo. Benvenuti in ospedale San Paolo. Wow, i cuccioli di cani nascono in questo ospedale. Dovete aspettare in sala a stesa. Mmm, hai ragione. Sedetevi qui, ok? Ah, finalmente, verso mattino è nato il cucciolo. Incredibile. Quanto è bello questo cucciolo. Non va a darci perché Il mio amore Solo ti darà felicità, felicità. Ah, cucciolo, hai fame? Adesso, adesso ti portiamo un po' di latte. Fai brava. Arriviamo dopo. Ok, arriviamo subito. Grazie. 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 Grazie a tutti